Siamo ormai a un paio d'anni dal momento in cui le linee guida sono state emanate e che sono in fase di applicazione. Ovviamente è un sistema molto complesso, una procedura di rilievo dei ponti, dei viadotti, ma poi ci sono anche procedure di valutazione. Un sistema complesso che ha necessità comunque di essere verificato, sperimentato e poi nel tempo vedremo quali correttivi si possono porre. In questo senso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha voluto stipulare un accordo con il Consorzio Interuniversitario ReLuis proprio per seguire questa fase di prima applicazione, individuare quali sono i punti più difficili, più carenti che possono portare a esiti che evidentemente non necessariamente rispecchiano la realtà, lo stato di conservazione piuttosto che la sicurezza del ponte. Per questo abbiamo voluto fare questo convegno, a distanza di un anno e mezzo o due anni che abbiamo questa convenzione. La convenzione è partita, i lavori sono in corso, così come sono in corso le attività di applicazione delle linee guida da parte degli operatori, i concessionari, i gestori e anche gli antilocali. L'occasione del convegno è quello di non solo esporre i risultati di ReLuis che sono ancora risultati intermedi, promettono bene ma non siamo arrivati ovviamente a conclusioni, abbiamo ancora un anno e mezzo circa di lavoro. Quello che vogliamo abbiamo voluto fare è aprire anche un tavolo di confronto con gli operatori e in questo senso abbiamo oltre alle sessioni di esposizione dei risultati anche delle sessioni di tavole rotonde cui partecipano i maggiori soggetti coinvolti al di là del Consiglio Superiore dei Autori Pubblici e di Ansvisa anche Anas, Autostrade per l'Italia e tutti gli altri concessionari, così come anche gli antilocali, le regioni e abbiamo cercato di mettere intorno al tavolo e confrontarci sulle esigenze che nascono dalle applicazioni. Questo è un appuntamento che vogliamo ripetere sicuramente l'anno prossimo quando con la convenzione saremo più avanti nelle attività di convenzione ma anche nella loro sperimentazione sul campo avremo degli esiti più importanti e più certi rispetto alle esigenze che ci sono.